Abbiamo fatto una vittoria importante per la classifica e per la squadra e sono molto contento di essere amministrato e presentato in una maniera per bene, diciamo. C'è una vittoria aiutando la squadra in quello che potevo. Penso se siano capite più o meno le mie qualità o quello che ci provo a dare la squadra che difesa nel perimetro e penetrare quando l'occasione si mi dà o tiro altri punti. Mi sembra che la squadra sia molto forte e le ambizioni sono giuste, soprattutto per il roster che abbiamo. Veramente mi sto trovando molto al mio agio, in espogliatoio e pure in campo, perciò sono molto contento di questa cosa. Diciamo che due cose furono quelle che mi hanno spinto qua. Una è il fatto di Coach Crotti che sapevo che aveva intenzione di portarmi qua, la cosa che mi ha spinto a scegliere questa società. L'altro è il fatto di essere una società che ha delle ambizioni grandi e di cui penso di poter aiutare per raggiungerli. Questa cosa mi ha convinto. Sappiamo che sarà fondamentale per la squadra, soprattutto per la classifica che abbiamo ora e quella che hanno loro. Sappiamo che vengono in grande fiducia, però ci la possiamo giocare tranquillamente, perciò speriamo di fare una settimana allenamenti per bene e di arrivare con il meglio possibile. Gli obiettivi che ci mettiamo noi come squadra sono partita a partita. Oggi ci stiamo pensando a Pembino e domani vedremo, però certamente tutti in campo vogliamo fare i play-off e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo. Sì, Mattias è stato molto piacevole per me, il fatto di averlo in espogliatoio, soprattutto sempre avere una persona del paese di uno è molto piacevole come cosa, perciò ringrazio lui per come si è comportato con me e certamente mi fa contento avere uno da dove sono io.